L'irresistibile Notaresco prende il largo in testa al girone F di Serie D. La squadra allenata da Vagnoni ha battuto 1-0 la San Giustese e ha un vantaggio di 10 punti sulle inseguitrici. Gol vittoria di Romano che interviene su un traversone da sinistra dell'immarcescibile Sansovini. Nel derby Terramano il Pineto ha la meglio su Real Giulianova nei minuti finali. A inizio partita Pineto avanti con un bel tiro da 20 metri di Camplone. A inizio secondo tempo Pineto in 10 per l'espulsione di Sissè. Il Giulianova riesce a pareggiare con una conclusione di Barlafante. A cinque minuti dalla fine a quadro imbecca Tomassini che riporta in vantaggio i padroni di casa e all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con il giovane Pierpaoli che riprende una respinta del portiere su tiro di Bianciardi. Ritorno alla vittoria per la Vastese ma quanta fatica contro il Cattolica. Per il gol dell'1-0 bisogna aspettare la metà del secondo tempo con Francesco Esposito che sfrutta una mischia davanti alla porta. Gli ospiti però trovano il pareggio con un sinistro di Gasperoni, Palo e Rete. Al primo minuto di recupero il difensore Di Filippo appena acquistato trasforma in Rete un calcio d'angolo con un colpo di testa. L'Avezzano non riesce a vincere neanche con l'Atletico Fiuggi. Finisce 1-1 e l'allenatore Andrea Liguori si dimette, aprendo la strada un ritorno di Antonio Mecomonaco. Marsicani in vantaggio con Quatrana, subito dopo sfortunato autogol di Macri sul traversone innocuo di Locci. Il Chieti sconfitto 2-0 a Tolentino. Nel secondo tempo Marchigiani avanti con Capezzali su assist di Minnozzi. Neanche il tempo di una reazione che i neroverdi subiscono il raddoppio di Di Domenica Antonio con un gol fortuito. E domenica prossima derby tra Chieti e Avezzano, entrambe terz'ultima in classifica.